Bella a tutti ragazzi, ok? Bella a tutti ragazzi Entrata scenica Siamo ritornati Brute puttanelle Comunque Bella Io sono Ilox Lui è Jug E siamo un po' rugginiti Non ci ricordiamo come si registra E abbiamo tante, tante, tante cose da dirvi Ma la più importante è che siamo tornati No, perché se lui dice abbiamo tante cose da dire Le dice lui perché io non avevo pensato cosa dire E' di tutto, cioè siccome abbiamo detto Dai Jug, oggi è la volta buona Ci siamo messi Allora voi non avete idea di quante volte abbiamo detto Ragazzi, ricominciamo Jug? Ah ok, è vero Togliamo la creativa Ah ok, bisogna metterla Tipo voi non avete idea di quante volte abbiamo detto Ragazzi, ricominciamo Che ho tolto questa qua? Cosa? Non lo sono tolto da sola Vabbè Fammi parlare E tipo Ogni volta dicevamo Sì dai tornevamo Il giorno dopo O non c'era io O non c'era lui E morale della favola Tipo dicevamo Vabbè è un'altra volta Morale della favola Oggi siamo arrivati qui Siamo carichi Siamo pronti Siamo easy Siamo Mi sono già messo in testa Che dobbiamo cominciare i video Dall'inizio Cioè dall'inizio Dobbiamo ricominciare a fare video Non dico ogni giorno Nuovo video Come quei pazzi Che eravamo un tempo fa Però Perlomeno Però Almeno tre video in settimana Li faremo Sì tre Cioè tre minimo due Cioè adesso vediamo Comunque no Ricomincieremo Perché effettivamente Vi devo dire una verità Probabilmente qua sarà tutto Bippato e velocizzato Ma Ci serve Della Perché io mi devo Ok va bene Segreti professionali Ma comunque Cioè Sono segreti stupidi Non è che Teniamo segreti con voi ragazzi Quindi non vi preoccupate Tutti sappiamo che Dio è E anche Dio è Dunque ecco Questo sarà da Bippato Ma Dio Basta Tante bestemmie per noi Come le rose sono Bru No Le rose sono No basta Mai Basta No Dai Jug Ascoltami Le rose sono rosse Le viole sono blu Qui davanti ci sei tu Porco stu Ok Questa non è Questa non è da bippare Comunque Niente ragazzi Siamo ritornati E ragazzi Ve lo giuriamo su Dio E non è una cosa che Stavolta Cioè Basta pronunciare Dio Ah è vero S*****o E' una cosa che vi giuriamo Su noi stessi Su ADV Brothers Il prossimo video che vedrete nel canale Dopo di questo Sarà Bro vs Bro Dunque commentate qua sotto Se volete Ci lasciate una mappa Dove poter giocare Bro vs Bro La giocheremo Noi due Scusa Sono Mocca di merda No no non c'è Giug di merda No non posso Lascia stare No lascia stare la mia coltivazione di mucca Giug devo fare Devo fare i bambini Ok comunque E ragazzi Sotto nei commenti Se volete Ci potete lasciare Una mappa Tipo customizzata Magari anche solo PvP E dove giocheremo Appunto l'episodio di Bro vs Bro Per ora la facciamo Noi due Giug no Che cosa hai fatto Va bene io esco dal server Basta No Basta Ma dai Sv Ah già hai ragione Maria Te la ricordi la tua casa Crepa No vabbè scherzi a parte Tanto che noi imbottiamo di cosa La La casa Dipende un po' di questo server Semplice Un server Questo l'ho cominciato io Nell'inizio Era un buco lì Vabbè Un server stupido Che stavo facendo un survival Che avevo tanto tempo Che non Ducava Minecraft Stolette Giug Addio No però Vabbè Intanto abbiamo fatto un salvataggio di questa mappa Dunque probabilmente quando Non abbiamo lo scazzo di fare Ma Io direi di continuare questo server Di farlo un po' più grande Non lo so Comunque Vedremo Forse avevamo anche una mezza idea di aprire un server Ma non penso Però mi era venuta in mente adesso Però non lo so Ma che server dici? Ma vaffanculo No scherzi No no niente Comunque le pecore sono rosse Jug è marroncino Ed io Ok no Stavolta me la sono risparmiata Ah ok Comunque niente Ragazzi avete capito cosa dovete fare? Tu avevi tante cose da dire Quindi adesso dici qualcos'altro Dico qualcos'altro Dico che tra poco ho la potente Faccio i 18 a marzo E dunque sono felicio Felicio? Vaffanculo Ma puoi dire qualcosa del canale? Allora probabilmente inizieremo alcune serie Che non abbiamo idea per ora che cosa fare Ma ci verrà in mente probabilmente nei prossimi giorni Ma abbiamo detto perché abbiamo fatto tutta questa pausa Ah tutta questa pausa E già qui lo hai dato che lo sai Stanno aspettando tutti questa risposta No lo sai meglio di te Cioè lo sai meglio di te No proprio lo so Sì sì lo sai meglio di te Non lo so Tu lo sai di Ragazzi già guarda se sto facendo lo scaricabarile Perché nessuno dei due sappiamo Perché abbiamo smesso Per la non voglia Bastardo dillo Ok no è perché non avevamo idee E perché Ma che idee non avevamo la voglia No dai Faglio sul serio adesso Ci mancava la voglia E poi a me mancavano i soldi per le puttane Dunque vabbè La vita è questa La vita si va avanti Vabbè non so cosa c'entrano le puttane con il canale Ma comunque Jug praticamente c'ha la mamma No non è vero Ma perché deve fare sta Pattura di merda Tipo il papà di Jug è come una pecora nera Però È bianca Cioè a dire il vero non so che colore sono gli albaresi Jug Che colore sono gli albanesi Jug ti prego No 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 Jug Jug Ok Jug Non vuole ascoltarmi Probabilmente Non mi vuole bene Comunque sappiamo tutti che gli albanesi sono gialli Sono perso Nel mondo Ok ti vengo a prendere Solo due cose di sabbia Ehi ti vedo vai dove c'è la luce Jug Vai dove c'è la luce Sta arrivando sto salvatore Vedi Ride aereo confermato Ma chi sei? Non ti conosco Ride aereo confermato Non ti conosco Via Ok basta Ragazzi comunque Sapete cosa dovete fare Potete lasciarmi un commento No No Basta mi farai lagare Con la mappa Che volete farci giocare E niente Dagli Adventure Brothers Penso sia tutto Se avete qualcos'altro da dirci nei commenti Che siete felici O di Pronto la casa Quale? Ok Tanto non ci tornerai No Tu non mi prenderai No Sto No Mike Va via Oh cazzo Ma Come Non è arrivato L'ho one shottato Vabbè Ragazzi Il prossimo video Sarà Bro vs Bro State attenti Stato aggiornati sul canale E tutto il resto Guardate bene il canale Cioè guardate bene Youtube Presto arriverà Un video Esatto Arriveranno anche probabilmente Delle fuck you time Dove potete Farci delle domande Che volete voi Ma da dove ti escono Ste cose? Eh? Da dove ti escono Ste cose? Perché io sono Uno youtuber No scherzo Non è vero Va bene Non so Dettagli a parte Ragazzi Vi salutiamo Ci vediamo Alla prossima Ciao Bella Oddio